E' questo l'obiettivo del candidato sindaco del centro-destra al comune di Bari, Domenico Di Paola, durante una conferenza stampa tenuta con i sindaci della coalizione che sono la guida dei comuni interessati dalla futura città metropolitana. Tutta la città metropolitana, rilevato Di Paola, che si confronterà al balottaggio domenica prossima con il suo avversario Antonio De Caro, non si può fermare a progetti con piccole coperture, perché abbiamo bisogno di vincere la sfida globale, con un grande progetto di valorizzazione del nostro territorio. Oltre alla ricerca di finanziamenti aggiuntivi dell'Unione Europea, è necessario creare condizioni di attrattività del territorio affinché ci sia la volontà dei privati di investire e invertire questa emoragia di posti di lavoro. I comuni che fanno parte della città metropolitana, ha spiegato Di Paola, non sono periferie ma tesori da valorizzare con le loro caratteristiche culturali, enogastronomiche, di attrattività industriale, ma anche naturali, paesaggistiche, con un progetto in cui le risorse contribuiscono all'efficientamento di questo sistema e alla sua vendita al mondo. Restano alcuni problemi da risolvere come gli standard amministrativi e autorizzativi per una strategia comune, anche con il miglioramento del sistema dei trasporti. Quanto alle previsioni su un eventuale recupero rispetto al risultato del primo turno, Di Paola ha detto non ho mai fatto misurazioni ma conosciuto sempre il mio rapporto con la gente. Vedremo domenica.